Con Marco Ciani parliamo dell'organizzazione del torneo nazionale Banca di Cambiano Memorial Varrasi, un torneo che ti ha impegnato ormai da un bel po' perché ti vedo bello attivo su Facebook per comporre tutto il torneo. Sì, è un bellissimo torneo, molto impegnativo, impegnativo nella fase preparatoria perché le 60 partite, 9 palazzetti nei quali giocheremo sicuramente hanno bisogno di tanto tempo e organizzazione, per fortuna siamo una buona squadra di organizzatori e quindi pensiamo di preparare al meglio questo torneo. Marco, parlaci un po' delle squadre presenti al Memorial Varrasi. Le squadre sicuramente hanno risposto con grande entusiasmo da tutta Italia, tre squadre dell'Emilia Romagna, la campione regionale Toscana Montevarchi, Pontedera, di Firenze sicuramente le squadre migliori tra cui Pino, Sancat e Laurenziana e diciamo un bellissimo livello ma anche a tante altre squadre incuriosite dal torneo che vengono per la prima volta magari a Firenze con l'entusiasmo di giocare anche in palazzetti eccezionali come il Mandela Forum. Stiamo parlando veramente di ragazzi under 14 quindi diciamo si vede qualche talento anche nel basket italiano. Ma sicuramente speriamo di conoscere quello che poi un giorno magari andrà a giocare un europeo come sta facendo la nazionale italiana ma sicuramente si vede tanto entusiasmo, tanta voglia, voglia di crescere e di migliorarsi, di vivere anche con grande trasporto ed emozioni queste partite. Un minuto su un minuto i ragazzi se lo giocano sempre al massimo e questo è un po' quello che dà la carica allenatori, dirigenti e a tutto il settore.